Amici di Frenhaus, grazie a segna stampa di come i giornali laici, quotidiani, italiani parlano della Chiesa, del Papa, della dottrina sociale e in generale della cultura. Lo vedremo ogni sabato a questo portale Frenhaus. Iniziamo con la notizia della settimana. Ieri le dimissioni del Cardinale Becciu che hanno fatto scrivere molto i quotidiani. Allora andiamo insieme a vedere come i quotidiani italiani trattano questo argomento. Iniziamo con il Corriere della Sera. Via il Cardinale dello scandalo londinese, è il vaticanista Gian Guido Vecchi a scrivere Vaticano, svolta nello scandalo dell'immobile di Londra. Angelo Becciu lascia la carica di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e i diritti del cardinalato. Quindi via, è il termine che usa il Corriere della Sera, al Cardinale dello scandalo. Stiamo attenti ai termini dei giornali. Via e scandalo. Andiamo su Repubblica che naturalmente ha l'apertura su questo tema e specifica anche perché il caso Becciu, almeno secondo la versione di Repubblica. Soldi ai familiari, rimosso il Cardinale Becciu. Vedete che già dal titolo la Repubblica dà un'interpretazione a quello che è successo. Il Papa avrebbe, secondo Repubblica, rimosso il Cardinale Becciu. Intervento shock del Papa dopo l'inchiesta dell'Espresso su 700 mila euro sottratti al Vaticano. Andiamo sul giornale che non tratta in prima pagina questo tema, ma pone un'altra notizia per quanto riguarda la vita della Chiesa. 4 ottobre, cancellato dal rito ambrosiano della diocese di Milano. Secondo il giornale, Milano dimentica di onorare San Francesco. Almeno dopo la sua conversione da Cavaliere, avrebbe perdonato l'offesa di essere dimenticato da una delle più grandi chiese del mondo, Milano, nel giorno della sua festa, il 4 ottobre. Ma era San Francesco, padrono d'Italia, onorato ogni 4 ottobre da una regione d'Italia a turno. Ebbene, secondo il giornale, Milano dimentica di onorare San Francesco. Andiamo sul foglio. Ti tolgo il cardinalato. Torniamo alla notizia del giorno con un inusuale bollettino diffuso poco prima delle 20 di ieri sera. La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che il Papa ha accettato la rinuncia dalla carica di prefetto della congregazione, delle cause dei Santi e dai diritti connessi al cardinalato del cardinale Giovanni Angelo Vecciu. Analogo provvedimento era stato adottato solo tre volte nell'ultimo secolo. quindi ti tolgo il cardinalato è, secondo il foglio, un intervento diretto della Papa. Andiamo sul tempo. Il Papa fa dimettere Vecciu da cardinale e per il tempo è un terremoto in Vaticano dopo l'inchiesta sull'obulo di San Pietro investito a Londra. Quindi come vedete tutti i giornali si orientano su questo tipo di indagine, dove lo ricordiamo peraltro Vecciu non è inquisito. Andiamo sul fatto quotidiano che parla di scandalo vaticano. Il Papa caccia il cardinale Vecciu. Vedete come i termini e le interpretazioni dei giornali poi si vanno a misurare proprio dai termini, dai titoli. Secondo il fatto quotidiano il Papa avrebbe cacciato il cardinale Vecciu. Andiamo sul messaggero che usa un'altra terminologia. Il Papa licenzia Vecciu e lui obbedisco il caso di un versamento a una cooperativa del fratello in Sardegna. Vedete come il messaggero dà una interpretazione completamente diversa dagli altri giornali che guardano all'inchiesta sul palazzo del Vaticano a Londra, mentre in questo caso il messaggero parla di soldi distolti dal Vaticano per aiutare la cooperativa del fratello. Il messaggero in prima pagina dà la voce anche al cardinale Vecciu. Sono innocente e lo dimostrerò. Sono le poche parole che il cardinale riesce a sussurrare ai giornalisti che lo hanno contattato in diretta ieri telefonica. Andiamo sulla stampa di Torino. Gli affari immobiliari costano la porpora al cardinale dei Santi. Quindi vedete si ritorna al palazzo di Londra e in più, secondo la stampa, avrebbe utilizzato denaro destinato ai poveri per elargire i favori ai familiari e altri sarebbero stati destinati a conti offshore. Sarebbero queste le cause del terremoto che ieri sera ha fatto tremare le mura e andare di traverso la cena a molti prelati, scrive la stampa. Questo è un po' il tema del giorno della serie per quanto riguarda la vita della Chiesa. Una notizia arrivata a sorpresa nella giornata, nella serata di giovedì sera, dobbiamo dire. Avete visto i vari termini che si sono utilizzati. Andiamo a vedere invece l'osservatore romano di giovedì 24 settembre. Si parla del principio di sussidiarietà. Bisogna ascoltare i più deboli e l'osservatore romano giovedì 24 settembre torna sui temi della udienza del mercoledì del Papa con i pellegrini presenti a Roma. Attuare il principio di sussidiarietà ascoltando i più deboli. Il Papa all'udienza spiega che o si lavora insieme o non si uscirà mai dalla crisi. Rispalla sull'osservatore romano di giovedì scorso. C'è anche il tema del Covid, l'altro tema della settimana. In una settimana oltre due milioni di nuovi casi in Europa. Restiamo sempre su giovedì 24 perché leggiamo il foglio quotidiano. E qui c'è il tema della comunicazione. I giornali si sono dimenticati del Papa. Per il Vaticano l'eutanasia è un omicidio ma la stampa non se ne è accorta, scrive il foglio. La lettera è quella del Samaritanus Bonus che definisce l'eutanasia una malvagità e un crimine e un peccato. E non accetta giustificazioni neanche per chi si rende complice di questo atto omicida. Chi ha riportato la notizia, commenta il foglio, l'ha fatto quasi si trattasse di una nota marginale e meno interessante delle previsioni del tempo e dell'oroscopo del giorno. Peccato ma comprensibile. Dopo sette anni di racconti sul Papa del chi sono io per giudicare un gay, di interviste a signore con figli omosessuali cui Francesco avrebbe detto che Dio ama i figli gay per come sono, sarebbe stato arduo, secondo il foglio, cambiare tono e passare dalle lodi al severo giudizio per quanto contenuto nel documento che reca la firma del cardinale Ladaria ma che il Papa ha visto e approvato. Quindi i giornali si sono dimenticati del Papa che condanna come crimine e peccato l'eutanasia. Andiamo su Avvenire, siamo in conclusione di questa sintesi della settimana della Chiesa sui giornali quotidiani laici italiani. Partenza in salita, il titolo di Avvenire sempre di giovedì 24, la Commissione europea presenta il piano per l'immigrazione. Restano le divisioni tra i paesi dell'Unione europea. Solidarietà obbligatoria o ricollocamento o rimpatrio sponsorizzato, cioè i paesi che non vogliono i migranti devono pagare il rimpatrio dei migranti che possono ritornare a casa. E su Avvenire di giovedì si parla anche dell'utero in affitto, la Commissione della Camera dei Deputati ha bloccato bimbi cinesi partoriti con utero in affitto. Andiamo a vedere l'osservatore romano di lunedì e martedì 21 e 22, l'appello del Papa all'Angelus di domenica scorsa, formare i giovani alla cura della dignità umana e della casa comune. L'auspicio all'Angelus di domenica scorsa del Papa 20 settembre è che le nuove generazioni siano formate alla cura della dignità umana e della casa comune e soprattutto al rispetto dell'ambiente. Andiamo ancora sull'osservatore romano di mercoledì 23 settembre che parla dello scontro alle Nazioni Unite sulle nuove sanzioni a Teheran con l'opposizione alle proposte degli Stati Uniti che vogliono le sanzioni. C'è un interessante servizio di spalla sull'osservatore romano sulla medicina come arte terapeutica e si ritorna a parlare della lettera Samaritanus bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, lo abbiamo visto dal foglio. Chiudiamo sempre su questo tema, sulla lettera che il Vaticano ha dato all'attenzione di tutti, del bonus Samaritanus, il buon Samaritano, mai senza cure il titolo di avvenire. La congregazione per la dottrina della fede, la morte non è un diritto, no al suicidio assistito che è un crimine contro l'umanità, sacramenti incompatibili con l'eutanasia e avvenire apre con questo tema che secondo il foglio è stato ampiamente snobbato dalla stampa laica quotidiana italiana. È tutto amici ascoltatori per questa breve rassegna stampa della settimana sui fatti del Papa, della Chiesa, della dottrina sociale. Grazie, restate in sintonia con questo portale, l'appuntamento è a sabato prossimo.